Notizie positive per le addette alle pulizie delle scuole della provincia di Frosinone da mesi senza stipendio. Si è tenuta ieri un'assemblea pubblica al MIUR per l'assegnazione del nuovo appalto. Il ministero ha confermato che nel giro di massimo 15 giorni avvierà le procedure per dar modo alle scuole di sottoscrivere i nuovi contratti attuativi. Occorre ancora aspettare qualche giorno, spiega il segretario provinciale della Will Transporti Luca Lombardi, ma siamo fiduciosi. Purtroppo le lavoratrici stanno attraversando le ennesime nefaste festività senza aver ricevuto alcuno stipendio, ma la riunione del MIUR è senza dubbio positiva. Dal 1 gennaio 2020, come deciso dalla legge finanziaria, le addette alle pulizie verranno direttamente assunte dalle scuole, mettendo così fine alla fallimentare gestione privata del prezioso quanto indispensabile servizio. Notizie negative in provincia di Frosinone, come abbiamo già riferito, per la COP del capoluogo, che chiuderà i battenti il prossimo 15 marzo, come emerso da una riunione con le organizzazioni sindacali ed i vertici della Unicop Tirreno. Alla luce di questa notizia interviene il consigliere regionale di Forza Italia Pasquale Ciacciarelli, che prema affinché si salvaguardi l'occupazione dei lavoratori dei punti vendita Unicop Tirreno, di Frosinone, Aprilia, Pomezzi e Velletri. Alla luce del mancato accordo tra l'azienda Unicop e i sindacati, è opportuno che si giunga ad un punto d'incontro, una soluzione condivisa, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'interesse esclusivo dei lavoratori e del territorio. Un territorio, quello laziale, dice Ciacciarelli, ed in particolare della provincia di Frosinone, che vive una complessa situazione occupazionale. È importante che gli enti facciano quadrato intorno ai lavoratori, che in questo momento vedono crollare ogni certezza sul proprio futuro.